Domani sarà il giorno dei funerali di Stato dei poliziotti per Luigi Rotte e Matteo De Menego. La cerimonia avverrà nella chiesa Sant'Antonio Taumaturgo alle 11.30, ma sarà preceduta dal corteo funebre che si incanalerà verso la chiesa dove il Vescovo di Trieste, Giampaolo Crepaldi, terrà la funzione. Tante le disposizioni adottate per permettere il transito della folla. La partenza del corteo è prevista tra le 10 e le 10.30. Verrà seguito un preciso percorso con partenza dalla questura di Trieste, passando per via del Teatro Romano, Largo Rigborgo, via San Spiridione e piazza Sant'Antonio. Sarà vietato sostare con qualsiasi mezzo nelle zone citate e chiaramente non si potrà circolare con i veicoli. Anche i commercianti e gli altri esercenti che hanno negozi locali a margine del percorso dovranno necessariamente rimuovere sedie, tavolini e ogni tipo di ostacolo che possa intralciare il passaggio di chi marcerà verso la chiesa. In questo blocco stradale sarà compreso anche il tratto di Via Corso Italia. Tra le persone attese al funerale ci sono il Presidente della Camera, Roberto Fico, il Ministro dell'Interno, Luciano Lamorgese, il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, il Capo dei Comandanti Generali dell'Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri, il Capo dei Comandanti della Guardia di Finanza, Giuseppe Zaffarana. La funzione sarà seguita in diretta su Tele4 dalle 10.30 del mattino.